Fino al 12 maggio, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, è visibile la mostra Adattarsi in Città, in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali. 52 fotografie in due sezioni, l'uomo e la fauna e la flora, per ripercorrere la transizione dalla vita rurale a quella urbana. Documenti antichi dal 500-700 a tema sindonico, ex voto originali e riproduzioni fotografiche di tavole votive, sono esposti alla Biblioteca Nazionale fino al 27 giugno nella mostra Ex Votes Indone, promossa dal Consiglio regionale con l'Università di Torino.